Un centro di ricerca operativa e matematica applicata di alta formazione che potrebbe convenzionarsi con varie atenei e facoltà universitarie che troverebbero a Crema una specializzazione che non esiste da altre parti. Potrebbe essere questo lo scenario post chiusura della Facoltà di Informatica di Crema, elaborato il progetto per il rilancio dell'Ateneo Cremasco, esito di un lungo lavoro di confronto del tavolo tecnico, costituito da un team multidisciplinare capitanato dal professor Giovanni Righini, che guida dal 2000 un laboratorio di ricerca operativa considerato un'eccellenza del polo didattico cremasco. Il progetto, che sarà presentato agli interessati, prevede la costituzione di una fondazione, la forma giuridica che meglio risponda alle necessità, che avrebbe il compito di intercettare i fondi attraverso bandi regionali ed europei per gestire questo centro di ricerca. La fondazione potrebbe stipulare convenzioni con più atenei che fornirebbero docenti e studenti iscritti per questo centro di ricerca, che avrebbe il merito di essere un unicum a livello nazionale. In pratica sarebbero dei corsi cogestiti da più atenei, una proposta alternativa alla classica facoltà universitaria, che non garantisce la durata nel tempo e replicherebbe fondamentalmente quelle già esistenti. La proposta, che come tale va letta ed è suscettibile di modifiche e miglioramenti, sarà presto ufficializzata ed avrebbe due grandi meriti. Quello di mantenere la governance sul territorio. La regia non è demandata da altri atenei, da cui finora abbiamo dipeso, con il rischio, come accaduto, di una chiusura. L'altro punto di forza riguarda i contenuti innovativi che nessun altro ateneo avrebbe, coerenti con le tendenze del mercato. La figura dell'analista di ricerca, che utilizza strumenti e modelli matematici da applicare in ogni ambito della realtà, dalla pianificazione dei parcheggi alla mobilità elettrica ai processi industriali, è la terza figura più richiesta negli Stati Uniti e già affermata nel mondo anglosassone. Oggi in Italia, invece, non esiste alcun dipartimento universitario specializzato in questo settore. Un'idea e una proposta alternativa, che se dovesse trovare sostenitori, potrebbe salvare e mantenere un polo didattico universitario in città.